Grazie a signor Anna, chiediamo al seminario di procedere con un appello. Grazie a signor Anna, chiediamo al seminario di procedere. Grazie a signor Anna, chiediamo al seminario di procedere. Grazie a signor Anna, chiediamo al seminario di procedere. Grazie a signor Anna, chiediamo al seminario di procedere. Grazie a signor Anna, chiediamo al seminario di procedere. Grazie a signor Anna, chiediamo al seminario di procedere. Grazie a signor Anna, chiediamo al seminario di procedere. Grazie a signor Anna, chiediamo al seminario di procedere. Grazie a signor Anna, chiediamo al seminario di procedere. Grazie.